Sicuramente è stato un anno sui generis e questo è evidente, un anno che credo, spero che non capi di più, ma che fino adesso non ha mai coinvolto in maniera così profonda l'attività della ristorazione. Quindi è stato un anno chiuso a fatica, ma ci siamo riusciti, perché bene o male siamo riusciti, dopo i tre mesi di chiusura, a ripartire bene, perché da parte dei clienti c'era la grande volontà di ripartire bene. Il nostro posto era un posto che garantiva tranquillità e sicurezza e quindi nel rispetto delle norme i nostri clienti sono venuti e ci hanno aiutato e ci hanno permesso di superarlo questo momento. La problematica vera e effettiva è quella alla quale stiamo andando incontro con queste ulteriori chiusure, soprattutto così non programmate. Chiusura è un po' a singhiozzo infatti, è difficile organizzarsi? È difficilissimo perché il nostro lavoro non è un lavoro che si può gestire improvvisando, quindi ci dobbiamo aiutare a vicenda tutti quanti, come ho fatto io e sto facendo e continuerò a fare, anche perché non abbiamo assolutamente avuto aiuti, che se ne dica, e quantomeno quelli che sono arrivati e chi è arrivato sicuramente sono troppo bassi rispetto al danno che è stato causato. Credo che ci sia adesso bisogno di un intervento perché altrimenti non ce la faremo ad andare avanti.